La sua benignità dura in eterno, la sua fedeltà per ogni età. Alleluia! Wow! Che bello quello che ha detto Daniel prima. Quanto è buono ed è fedele il Signore. Amen? Wow! Questa mattina parleremo ancora dei cieli aperti. Quanti desiderano vedere i cieli aperti sulla propria vita? Buongiorno. Sapete ogni tanto noi ascoltiamo che c'è qualche critica perché facciamo troppo rumore. Qualcuno dice che abbiamo le luci colorate e non vanno bene. Qualcuno dice che parliamo di soldi e non va bene. Io dico che questa mattina di quello che parleremo qualcuno dirà che non va bene neanche. Parleremo di argomenti, di due argomenti molto profondi. Vi assicuro che molti diranno non vado più in questa chiesa. perché è la parola di Dio comunque che ci fa stare scomodi e a volte la nostra carne si ribella alla parola perché la nostra carne non è stata redenta. Abbiamo un corpo mortale. Lo sapete che avete un corpo mortale? quanti sanno che hanno un corpo mortale e quelli che non lo sanno? Non resterete qua in eterno. Il vostro corpo un giorno morrete. Il vostro corpo resterà qua. Ma se tu hai creduto in Cristo Gesù e l'ho fatto divenire Signore della tua vita tu andrai in cielo e starai con Lui e godrai prosperità. Lai in cielo godrai meraviglie, godrai riposo. Qua devi lavorare. Quando andrai in cielo ti potrai riposare. Potrai andare in ferie quando sarai in cielo. Ma qua bisogna lavorare. Così questa mattina voglio parlare della seconda parte dei cieli aperti. Domenica scorsa abbiamo parlato di Agee una delle cose che apre i cieli nella nostra vita e dare al Signore le nostre risorse, quello che Lui ci provvede. Ma questa mattina parleremo di intimità non tra marito e moglie. Finalmente il pastore sta insegnando così mia moglie comprenderà. No, no, no. Non sto parlando di quello. Non voglio parlare di quello. Ma voglio parlare di intimità con il Padre. E parleremo anche di perdono. Perché tante volte i cieli sono chiusi su di noi a motivo della mancanza di intimità. Tante volte sono chiusi a motivo della mancanza di perdono. Tante volte sono chiuse a motivo, come è stato predicato domenica, a mancanza di fedeltà a Dio. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare il messaggio qua nel cellulare perché non ce l'ho. I cieli aperti, prima parte. E perché qua non c'è la seconda parte? Che succede? Perché forse dobbiamo ripetere la prima? Ma non c'è la prima parte. Bene, andiamo col cartaceo. Non so cosa è successo di nuovo con il mio Google Drive. Vediamo se lo trovo. Mi permettete un attimo, per favore? Abbiate pazienza con me. Niente, c'è solo la prima parte. Non so cosa sia successo. Non capisco, ma comprenderò. Eh no, ma non sai dove mettere le mani. Ok, va bene. Meno male che c'ho i fogli. La vedutezza non fa mai male. Ok, questa mattina parleremo di cielo aperto e come avevo detto il primo argomento di cui tratteremo è la comunione con Dio, col Padre che apre i cieli. Il secondo punto è il perdono. Vogliamo partire proprio da quello che Gesù faceva. Gesù aveva intimità con il Padre. e questo gli permetteva di avere continuamente i cieli aperti. Ovvero, lui aveva i cieli aperti perché ascoltava continuamente la voce del Padre e aveva la consapevolezza che quando lui parlava il Padre l'ascoltava. E questo è uno dei punti forti oggi nella Chiesa. Perché si ha poca intimità. Intimità non significa fare la preghiera di ringraziamento per la pasta che stai per mangiare o la fettina di carne che stai per mangiare ovvero quando sei a casa stai pregando per i cibi. Quello non è intimità. Quella è una preghiera di ringraziamento e di santificazione per i cibi. Che fai? Quindi cosa fai? Ringrazia Dio che ti ha provveduto nel nome di Gesù benedici i cibi perché siano santificati e non ti facciano alcun male. Quella non è intimità. Pregare il Padre perché ti provveda le finanze o il lavoro per poter sostenere la tua famiglia e i tuoi impegni quella non è intimità. ma l'intimità è stare col Padre e parlare faccia a faccia e appartarti quindi avere una distanza ravvicinata col Padre guardare faccia a faccia il Padre il Padre possa guardare te e quindi sentire il suo respiro sentire il suo calore la sua intimità e poter aprire il tuo cuore al Padre e sapere ascoltare anche quello che il Padre ti vuole dire i cieli sopra Gesù erano continuamente aperti perché Gesù aveva uno stile di vita di preghiera e troviamo nelle scritture che lui ogni giorno ministrava ogni giorno operava miracoli ogni giorno insegnava ogni giorno c'erano potenti manifestazioni nella sua vita ma malgrado tutto quello che lui faceva la sera cosa faceva? si ritirava i luoghi solitari a pregare per avere intimità con il Padre e la Bibbia dice che Gesù dice io non faccio niente se non quello che il Padre mi mostra e non dico niente se non quello che il Padre mi dirà ovvero nell'intimità Gesù che aveva col Padre il Padre gli mostrava come operare e parlava con lui e lui poteva operare miracoli nella vita terrena perché lui osservava il Padre e il Padre gli insegnava come operare gli insegnava la fede gli insegnava come parlare come affrontare i religiosi come operare i miracoli ascoltava il Padre e Gesù aveva successo nella vita terrena a motivo dell'intimità ci avete fatto caso voi che quando crescete nell'intimità con Dio iniziate a vedere le cose dentro di voi e attorno a voi diversamente ci avete fatto caso ci avete fatto caso che quando non avete più quell'intimità le situazioni attorno a voi prima dentro di voi e poi attorno a voi prendono li vedete in modo diverso tutto questo accade nel bene e nel male nella qualità di intimità che abbiamo con il Padre il Padre richiede intimità un giorno la Bibbia ci dice che Dio chiamò Abramo amico mio e Gesù disse ai discepoli io non vi chiamo più servi ma vi chiamo amici perché vi faccio conoscere le cose del Padre mio è quello che Dio desidera Dio Padre che ci sia un rapporto oltre di onore e di rispetto come figli anche un rapporto di intimità ovvero di amicizia con Lui perché Lui ti possa rivelare quello che Lui vuole fare perché Lui possa parlare al tuo cuore ti possa dare la soluzione per la tua salute ti possa dare la soluzione per il tuo matrimonio ti possa dare la soluzione per il tuo lavoro ti possa dare la soluzione per la tua famiglia ti possa dare la soluzione come conquistare persone ma se veniamo meno in uno di questi pilastri di cui è l'intimità col Padre noi avremo sempre delle frustrazioni sapete cosa è una frustrazione come una continua insoddisfazione ma perché non riesco in questa cosa ma perché l'altro riesce e io non riesco ma perché quello può fare questo e io non riesco a farlo ma perché quello è benedetto e io non sono benedetto perché quella pace e io non ho pace ci sono delle continue frustrazioni le frustrazioni ti portano all'isolamento sempre continuo con Dio e l'isolamento continuo di Dio ti porta alla ribellione e la ribellione ti porta al peccato e il peccato ti isola da Dio ci isola da Dio allora è importante che ciascuno di noi come credenti possiamo fare quello che Gesù faceva dice ma Gesù era stanco perché tutto al giorno ministrava predicava insegnava discepolava ma per lui era di fondamentale importanza ritirarsi luoghi solitari e avere comunione intimità con il padre la Bibbia dice che si portava arrivando a un certo punto si portava i discepoli ma i discepoli diceva ok voi aspettate qua che io vado un po' più avanti a pregare da solo oggi noi abbiamo bisogno sempre di persone con cui stare a pregare se organizziamo incontri di preghiera le persone vengono la prima volta vengono la seconda volta vengono la terza volta vengono la quarta volta poi iniziano a venire meno non partecipa negli incontri di preghiera sapete perché non si partecipa agli incontri di preghiera? perché realmente non c'è un'intimità con Dio nel personale e di conseguenza non si ha il cuore di Dio per partecipare nella preghiera collettiva che è il contributo che ognuno ognuno di noi dà ovvero quando io il mio devozionale la mia intimità con Dio e c'è un incontro di preghiera io vado non per prendere ma per dare il mio contributo quello che io già ho ricevuto dal padre nell'intimità per darlo nella collettività e non aspetto che pregano o parlano gli altri ma se io ho avuto un rapporto di intimità e ho uno stile di vita di intimità con Dio il mio piacere è condividere con gli altri quello che io ho scoperto nel segreto e la Bibbia dice che quando noi preghiamo questo è l'insegnamento che fece Gesù che quando noi preghiamo nell'intimità e abbiamo un'intimità col padre dove nessuno ti vede quello che tu stai dicendo al padre quello che tu stai chiedendo come ti metti se ti metti in ginocchio se ti metti con la faccia a terra se stai in piedi seduto se stai a letto nessuno lo vede ma la Bibbia ci dice che non è tanto la forma che noi possiamo usare per pregare ma bensì è la qualità dell'intimità che abbiamo e la Bibbia ci insegna Gesù disse che se noi abbiamo un'intimità con Dio che preghiamo il padre senza che gli altri ci vedono e il padre ci renderà pubblico quello che noi abbiamo fatto nel segreto ma grazie ma se questo non c'è ahimè viviamo male quello che Gesù faceva aveva uno stile di vita di preghiera continua col padre e tu ed io dobbiamo imparare ad avere un'intimità col padre ma non un'occasione lo faccio una volta alla settimana lo faccio una volta al mese ma ogni giorno il popolo di Dio e i cristiani dobbiamo avere intimità intimità è come quando marita e moglie si mettono a letto nella propria casa stanno insieme marita e moglie nel letto e non contaminano la camera da letto non contaminano il proprio letto è il luogo dell'intimità e noi dobbiamo stare attenti ad avere un'intimità col padre non inquinare non contaminare l'intimità che dobbiamo avere col padre perché tutto il successo della nostra vita scaturisce dall'intimità che abbiamo col padre niente intimità niente miracoli poca intimità pochi miracoli tante intimità tanti miracoli Gesù ha operato nella vita terrena la Bibbia dice che lui è venuto sulla terra come uomo la Bibbia dice ci insegna che lui imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì quindi questo ci dice che Gesù quando è venuto sulla terra era un uomo come te come me ma ha dovuto imparare a dipendere continuamente dal padre e lui continuamente aveva intimità allora una cosa che te lo dico io una cosa che te lo dice la scrittura così prendiamo la scrittura in Giovanni capitolo 16 versetto 32 la Bibbia dice Gesù aveva una consapevolezza che il padre era sempre con lui e Giovanni 16 32 dice ecco l'ora viene anzi è già venuta in cui sarete dispersi ciascuno per conto suo e mi lascerete solo ma io non sono solo perché il padre è con me Gesù aveva la consapevolezza che il padre era con lui oggi noi abbiamo paura ma perché non mi chiami perché non mi viene a fare una visita perché non mi mandi un sms perché non stai sempre con me ma perché mi lasciate solo ma perché la Bibbia dice una cosa molto importante cari fratelli care sorelle cari amici la Bibbia dice ci dà una promessa che a tutti coloro che avrebbero ricevuto Gesù nella propria vita come personale Signore Salvatore la Bibbia dice che Gesù sarebbe stato sempre con noi quindi noi non saremo mai da soli ma noi siamo sempre in compagnia con Gesù il problema sta se noi abbiamo disconnesso la comunione con lui ovvero ci siamo disconnessi noi non sentiamo più la sua presenza e non sentiamo più la sua presenza perché non abbiamo avuto uno stile ovvero non abbiamo uno stile di vita di intimità e di conseguenza quando saremo dispersi cosa faremo ecco sono solo che bello che era bello quando c'era la Chiesa che era bello in quel modo che era bello con quel fratello che era bello con quella sorella che era bello così adesso tutti mi hanno abbandonato e mi hanno lasciato solo ma Gesù diceva io non sono mai solo lo rileggo l'ora viene anzi è già venuta in cui sarete dispersi non so se è profetica questa parola sentivo una cosa prima là ma non mi voglio pronunciare ciascuno per conto suo dice mi lascerete solo ma io non sono solo perché il padre è con me aveva consapevolezza Gesù che il padre era con lui ora la mia domanda noi abbiamo sempre la consapevolezza che il padre è con noi o qualche volta la perdiamo quando è che perdiamo la consapevolezza della sua presenza nella nostra vita quando abbiamo smesso anche per un solo giorno di pregare anche per un solo giorno tu stacchi la tua intimità col padre e tu hai perso la consapevolezza allora è importante che ciascuno di noi per poter vedere benedizioni perché parliamo di cieli aperti che piogge di benedizioni possano scendere sulla nostra vita abbiamo bisogno noi dobbiamo fare la scelta la decisione di avere intimità con il padre affinché non perdiamo mai la consapevolezza che lui è con noi Matteo capitolo 14 versetto 22 23 la Bibbia dice dopo aver congedata le folle cosa fece Gesù salì sul monte in disparte per pregare e fattosi sera era là tutto solo Gesù ministrava alle folle dice dopo averle congedate congedate le folle salì sul monte in disparte per pregare e quindi la preghiera è parlare un dialogare con Dio Gesù parlava e diceva padre quanto miracoli sono successi oggi io ti ringrazio padre perché con pochi pani e pochi pesci sono state sfamate tante persone oggi e il padre gli diceva figlio mi compiaccio di te perché sei un uomo di fede perché hai agito con pochi pani e con pochi pesci tu hai agito e tante persone sono state sfamate e Gesù gli diceva padre c'era uno che mi gridava un cieco che mi gridava io sono arrivato là e io ho detto cosa vuoi lui mi ha fatto una domanda e mi diceva che io recuperi la vista e lui ha recuperato la vista e il padre gli diceva a Gesù bene bravo figliolo bravo il lavoro che stai facendo sulla terra perché stai liberando persone dalla schiavitù e Gesù raccontava quello che faceva il padre e il padre gli rispondeva e si complimentava ora sapete le nostre insoddisfazioni da dove partono dalla mancanza di gratitudine che riceviamo dal padre un riconoscimento dal padre e cerchiamo gratificazione negli uomini che gli uomini ci possano fare continuamente complimenti che il pastore ti possa mandare ogni giorno messaggi che tua moglie ti possa preparare questo che tuo marito possa fare questo che il fratello la sorella perché cerchiamo dagli uomini la gratificazione ma gli uomini ci deludono tu puoi avere una moglie o un marito fedelissimo prezioso meraviglioso glorioso una moglie preziosa gloriosa meravigliosa ma su questa terra anche tua moglie e tuo marito col bel rapporto che potrai avere eccellente ti può anche deludere perché non sempre ha la parola giusta per soddisfare la tua sete e la tua fame dell'anima o dello spirito ma quando hai una giusta relazione col padre tu ricevi gratificazione apprezzamento consolazione ricevi gioia amore lo ricevi dal padre ma quando dipendi sempre dalle persone arriverà un bel momento che sarai deluso e questo è la causa perché molti fratelli arrivano in chiesa cercano una posizione in chiesa vacedono al battesimo vogliono fare il battesimo si vogliono mettere a posto ma non hanno una relazione un'intimità con Dio alla prima occasione tornano indietro perché pensano di trovare gratificazione sul battesimo dice mi battezzo accade un miracolo il miracolo che accade quando una persona si battezza è che entra asciutto ed esce bagnato dall'acqua sela quello è un miracolo o viene lavato perché è un miracolo qualcuno non si lava dice l'occasione una battuta dicevo finalmente mi posso fare la stavo desiderando una vasca a casa mia o alla doccia mi voglio battezzare almeno entro tutto disteso nell'acqua o qualcuno dice qualcuno mi coccolerà perché qualcuno mi farà entrare nell'acqua e mi porterà fuori no quello non è un miracolo quello è un'ubbidienza alla parola di Dio che dice che chiunque avrebbe accreduto deve essere battezzato ok e quindi da dove vengono tutte le insoddisfazioni perché molti fratelli tornano indietro per la mancanza di intimità col padre tante frustrazioni tanti problemi tante amarezze tante delusioni le abbiamo nella nostra vita per mancanza di intimità con il padre lui solo può capire il tuo bisogno le tue necessità di amore di comprensione nessun uomo qua sulla terra può comprendere il bisogno tuo lo può comprendere in parte tu puoi avere un bellissimo pastore un bellissimo ministro un bellissimo profeta eccellente ma non sempre ti potrà comprendere perché e anche se è un uomo di grande sapienza talvolta lo spirito santo non lo usa perché un pastore un ministro un padre una madre un fratello non si dovrà mai sostituire a Dio e quindi cosa avviene che Dio a volte blocca la comunicazione perché vuole dire devi venire a me io sono tuo padre non è il pastore tuo padre non è l'apostolo tuo padre non è tuo marito tuo padre non è tua moglie tua madre ma è io sono tuo padre e la Bibbia dice che lui è geloso la Bibbia dice io sono un Dio geloso e Dio desidera che ciascuno di noi possiamo avere una reale intimità col padre ma è una decisione tua il padre desidera avere intimità con i suoi figli io ricordo mia mamma questa in particolar modo mia mamma perché mio papà era un po' più silenzioso lui ingoiava sempre mia mamma era un po' più espressiva come tutte le donne pensano ad alta voce sono più espressive e ricordo che i miei fratelli si erano sposati era ancora ragazzino era a casa mia mamma e ovviamente mia mamma desiderava che i miei fratelli da buona siciliana che i miei fratelli insieme alle loro mogli insieme ai bambini piccolini la domenica era un obbligo passare da loro da casa nostra per farsi vedere e quindi talvolta desiderava ma come mai non mi viene a trovare ma come mai perché non è arrivato questa settimana ricordo uno dei miei fratelli il più grande che abitava vicino a casa mia mia madre raccontava e bramava dice ma perché passa da sotto casa mia non si ferma e non sale ma perché io sto desiderando vederlo abbracciarlo sto desiderando parlare con lui sto desiderando toccarlo sto desiderando godermelo ed era una mamma che tante volte faceva questi ragionamenti tante volte litigava anche con lui era una persona umana era una mamma aveva un affetto ma aveva anche le sue debolezze non era desiderio di mio di mio fratello stare con mia mamma ma era un desiderio sviscerato di mia mamma sta a vedere suo figlio e mia mamma come diceva non era una brava mamma meravigliosa ma aveva anche i suoi lati negativi ma il nostro padre celeste che è perfetto lui sta desiderando avere comunione con i suoi figli lui sta desiderando il padre avere intimità poter aprire il suo cuore ai suoi figli poter provvedere per i bisogni dell'anima dei suoi figli poter guarire l'anima dei figli poter guarire la mente dei figli poter guarire dare la soluzione ai figli per il matrimonio per gli affari per le finanze per la salute ma il problema sta che figli non vogliamo avere questa intimità viviamo con una cultura tutto veloce tutto presto tutto subito mettiamo il cibo nel microonde e in due minuti è già scaldato tutto pronto cucinato e pensiamo che con Dio in due minuti entriamo là padre ti ringrazio per questo mi fai la lista della spesa ok nel nome di Gesù amen e pensi che le benedizioni ti arrivano quello non è un tipo di preghiera quello non è intimità tu stai facendo conoscere le richieste ma non stai aspettando la soluzione alle tue richieste intimità significa avere un luogo appropriato isolato dove tu e Dio ti puoi incontrare Gesù la Bibbia dice che salì sul monte in disparte a pregare non stava a valle dove c'erano le masse dove c'erano le moltitudini delle persone che lo aspettavano ma lui cercava luoghi solitari dove potersi appartare stare da solo con il padre ovvero era geloso del suo tempo con il padre ora quanto sei geloso del tuo tempo con il padre quanto realmente dice io sono geloso questo è il tempo che devo stare con mio padre ma perché mi mi infastidite perché mi cercate perché io non ho tempo noi tutti dobbiamo essere gelosi del tempo dobbiamo dedicare il tempo dedicato nell'intimità con il nostro padre perché quello ci permette di avere continuamente i cieli aperti l'intimità col padre ci permette di avere continuamente i cieli aperti ad avere risposte continue nella nostra vita ma se non abbiamo intimità noi vivremo con continue insoddisfazioni perché pensiamo che il nostro conigio possa soddisfare le nostre esigenze che la sorella che il fratello che il pastore ma l'unica persona che può realmente soddisfare i nostri bisogni guarire la nostra anima darci rivelazione è il padre e il padre non ci parla mai mentre stiamo correndo ci parla rallenta ridimensionati lui ci parla nell'intimità ovvero nel luogo dove noi ci appartiamo e quell'ora e quell'ora è dedicata solo ed esclusivamente per il padre poi al versetto 23 la Bibbia dice poi il mattino seguente sto leggendo sempre da Matteo capitolo 14 versetto 23 poi il mattino seguente essendo ancora molto buio Gesù Gesù si alzò uscì e se ne andò in un luogo solitario e la pregava Marco scusate questo lo sto leggendo da Marco perdonatemi lo sto leggendo da Marco 1 35 Luca 5 15 dice così e la sua fama si diffondeva sempre di più e grandi folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guarite dalle loro infermità ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava lo rileggo questo mi piace tanto e la sua fama si diffondeva sempre di più dice grandi folle si radunavano per udirlo noi cosa avremmo fatto al posto di Gesù wow che popolarità devo provvedere prima per i bisogni delle persone wow che fama che c'ho guarda quanto persone a me mi seguono guarda quanto persone sono nella mia chiesa guarda quanto persone quanto consulenze faccio guarda quanto sto facendo questo guarda quanto sto facendo quello ma per Gesù ma per Gesù la Bibbia dice ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava come dire le persone aspettate questo è un insegnamento per noi pastori perché se Gesù faceva così anche noi dobbiamo fare così ma lui non si faceva condizionare dalla popolarità non si faceva condizionare dalla fama non si faceva condizionare dalle grandi folle ma la sua priorità era l'intimità come desidera il padre cosa desidera il padre il padre desidera una profonda intimità e comunione con te con te con te Dio ti sta chiamando vieni qua figlio sto desiderando quando mio fratello andava a casa mia mamma mia mamma gli faceva la testa come si dice volgarmente gli gonfiava la testa ma perché figlio mio non ti fa vedere ma perché non sei venuto ti ho visto passare da qua ma perché fatti abbracciare fatti baciare era il primo figlio vieni qua ma perché ma che fa non mi vuoi bene ma perché ti comporti così a volte lei sfogava anche con noi con gli altri fratelli ma perché hai visto tuo fratello passare da qua e a volte sai cosa accade che noi passiamo da Dio e Dio dice che si fosse fermato un po' con me e avrebbe avuto un po' di comunione con me mia madre guardava dalle persiane e si metteva là e vedeva mio fratello che passava da là e lo guardava sbirciava io credo che Dio tante volte si mette anche da là apre un po' la finestra del cielo e dice quanto sto desiderando che questo figlio si fermasse e avesse intimità con me a volte Dio guarda apre la finestra del cielo e dice wow io ho la soluzione per questo figlio ma questo figlio non vuole ascoltare non vuole avere intimità con me va cercando altri soluzioni negli altri ma non cerca me e a volte noi non abbiamo risposte perché i cieli sono chiusi per la mancanza di priorità noi come cristiani e come popolo di Dio dobbiamo mettere ordine nella nostra vita la prima cosa che dobbiamo fare è obbedire a Lui e cercare l'intimità con Lui quando noi abbiamo intimità col Padre i cieli su di noi sono aperti come erano aperti su Gesù un'altra cosa per avere i cieli aperti è il perdonare questa mattina scenderemo in profondità perché lo Spirito Santo sin da ieri ministrava al mio cuore che ci sono tanti figli che sono feriti dal padre e dalla madre ma ci sono anche tanti genitori che sono feriti dai propri figli e le migliori ferite si ricevono dove? a casa e queste ferite che si ricevono a casa ce li portiamo in chiesa non li lascia a casa tua ma camminano sempre con te te li porti al lavoro te li porti per strada te li porti al supermercato te li porti ovunque allora io credo che quando Gesù arriva arriva per fare pulizia nella nostra vita arriva per mettere ordine per mettere le cose al suo posto perché noi possiamo prosperare perché noi non possiamo vivere nell'amarezza nel risentimento e nella mancanza di perdono e oggi più che mai oggi più che mai lo Spirito Santo vuole intervenire prima di ogni cosa nelle chiese perché le migliori ferite dopo la famiglia li abbiamo nelle chiese tra fratelli non mi capisco non mi capisce non mi comprende avevo detto questa capito un'altra cosa è cosa accade che fratelli si dividono chiese si dividono perché non si riesce a perdonare e la parola perdonare significa perdono non per merito ma per perdono un dono è qualcosa che la persona non merita e io ho deciso di donare ma se non comprendiamo questo continueremo nella nazione dell'Italia parliamo per la nazione dell'Italia poi andremo oltre continueremo nella nazione dell'Italia ad avere continue frustrazioni ad esserci continue spaccature nelle chiese continui disordine nelle chiese perché perché non si riesce a perdonare il nostro rapporto con Dio è condizionato anche dal nostro rapporto che abbiamo con il prossimo se tu riesci a perdonare il prossimo e ti dica ancora un'altra cosa se riesci a perdonare te stesso salirà la qualità del tuo rapporto con Dio ma quando noi non perdoniamo gli altri e talvolta non perdoniamo noi stessi interroppiamo o non abbiamo una buona comunione con Dio vedete che come la mettiamo la mettiamo il problema siamo sempre noi non sono gli altri non è Dio che ha problema di stare di avere comunione con te non è ma bensì siamo noi che abbiamo problemi di stare con Dio non è problema di Dio perdonare perché Gesù la Bibbia dice che Dio già ci ha perdonato per mezzo di Cristo Gesù il problema siamo noi che non perdoniamo gli altri e così è importante la Bibbia dice in Luca capitolo 17 versetto 3 dice state attenti ai vostri fratelli ah a noi stessi wow la Bibbia dice stai attento a te stesso se il tuo fratello pecca contro di te passagli sopra con una ruspa no la Bibbia dice state attenti a voi stessi veiate su voi stessi se tuo fratello pecca contro di te riprendilo e se si pente perdonalo ma la condizione dove lo Spirito Santo ci vuole parlare a noi stai attento a te stesso ognuno di noi deve stare attenti a noi stessi tu devi essere la sentinella il guardiano di te stesso cosa c'è nel mio cuore verso le sorelle verso i fratelli verso mio padre verso mia madre verso il pastore verso l'insegnante verso il datore di lavoro verso la mia compagna di scuola il mio compagno di scuola non devo giudicare gli altri come si comportano ma la Bibbia dice vada bene a te stesso e dobbiamo essere sentinelle di noi stessi Dio non ci costringe a perdonare lui ti ha dato la sua parola non ci costringe a perdonare ma bensì è un atto volontario lui ha lasciato la sua parola noi possiamo decidere di non perdonare ma non possiamo decidere della conseguenza di non perdonare cosa significa che io posso decidere di non perdonare il fratello posso decidere di non perdonare la sorella posso decidere di non perdonare mia moglie ma non posso decidere delle conseguenze per la mancanza di perdono quindi ho la volontà di decidere se perdonare oppure no ma non ho la volontà di decidere le conseguenze della mancanza di perdono per questo Gesù disse bada bene a te stesso perché le conseguenze non sono per gli altri ma le conseguenze la prima conseguenza è per noi perché la mancanza di perdono ci isola da Dio ci fa vedere tutto in modo distorto viviamo con rigetto gastrite colita infamazione al colon mancanza di dormire tutte queste cose sono a motivo della mancanza di perdono cosa accade quando non perdoniamo e quali sono le conseguenze quando non perdoniamo prima ferite dell'anima e problemi interiori talvolta profondi e poi ovviamente la mancanza di perdono ci isola anche dalla comunione con Dio Matteo capitolo 18 ci parla di due persone che avevano entrambi un debito e racconta questa quest'episodio di uno che aveva un debito di poco conto quanto un mese di lavoro e il suo creditore un giorno l'incontra lo prende e gli dice dammi soldi dammi soldi che mi devi dammi soldi che mi devi dammi soldi che mi devi e lui ha detto dice guarda lasciami del tempo che ti pagherò poi invece l'altro che aveva un grande debito incontrò no scusate mi sono confuso mi mettete il 18 per favore Matteo 18 stavo già ero connesso su un'altra cosa Matteo 18 il versetto 28 credo che sia Matteo 18 non è Matteo quello che per adesso lo sta avvenendo quello che abbiamo là nel computer trovato Matteo 18 questo è 14 14 18 così ma quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari poche cose dice e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo pagami ciò che mi devi il primo aveva un grande debito e il suo creditore gli ha detto per favore condonami questo debito e gli è stato condonato il debito questo stesso debitore era diventato anche un credit era anche un creditore uno che gli doveva 100 denari poche cose come quanto un mese di stipendio e afferratolo per la gola la bibbia dice lo soffocava dicendo pagami ciò che mi devi al versetto 29 continua il racconto e dice così lo so non è un problema di loro è un problema mio perché non gli ho dati versetti eh quindi sono bravi alla regia meravigliosi preziosi non è un problema di loro allora il suo conservo gettandosi a terra ai suoi piedi lo supplicava dicendo abbi pazienza con me ti pagherò tutto versetto 30 c'è ma costui non volle anzi al andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato tutto il debito a lui era stato condonato dieci anni di debito questo invece voleva un mese di debito restituito lo prese per la gola ora gli altri servi visto quanto era accaduto ne furono grandemente rattristati andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto versetto 32 dice allora il suo padrone lo chiamò a sé gli disse servo malvagio io ti ho condonato tutto questo debito perché mi hai supplicato non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te versetto 34 che è chiave e il suo padrone adirato si lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quello che gli doveva allora chi sono questi aguzzini gli aguzzini rappresentano i demoni allora noi siamo stati perdonati da Cristo Gesù la Bibbia dice che tutti coloro che avrebbero creduto in Cristo Gesù ci sarebbe stato un attimo di condono e di grazia ovvero la Bibbia dice che quando noi riceviamo Cristo nella nostra vita tutti i peccati che abbiamo commesso prima di Cristo qualunque peccato sia verranno totalmente abbonati e condonati non avremo nessun debito con Dio nel momento in cui permettiamo a Cristo di entrare nella nostra vita la sua grazia il suo amore ci fa dono di condonare tutti i nostri debiti e la Bibbia dice che diventiamo persone nuove l'apostolo Paolo scriveva corinze dice or le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo significa che spiritualmente nel momento in cui noi riceviamo Cristo Gesù nella nostra vita tutti i nostri peccati uno può commettere aver rubato tradito adulterio la qualsiasi cosa omicidi la Bibbia dice che tutto sarà condonato secondo Dio poi arriviamo noi riceviamo questa grazia questo dono questo condono arriviamo poi nei nostri fratelli e appena ci fanno un torto riteniamo il torto dei nostri fratelli dimentichiamo il debito che c'è stato condonato dimentichiamo tutti gli errori che abbiamo fatto nel passato quante volte abbiamo camminato in disubbidienza quante volte abbiamo rinnegato Gesù quanto volte abbiamo bestemmiato lo Spirito Santo quante volte ce ne siamo fregati di Dio della sua parola quante volte abbiamo perseguitato la chiesa quante volte abbiamo parlato male dei cristiani ma quando arriviamo a Gesù Gesù dimentica tutto questo ci lava e ci purifica attraverso il sangue di Cristo Gesù ma poi inizia il giudice dentro di noi appena un fratello ci fa qualcosa devi pagarla fino all'ultimo quando litighiamo con il nostro conige devi pagarlo dimentichiamo il condono che abbiamo ricevuto e non riusciamo a perdonare vogliamo ricevere perdono ma non vogliamo rilasciare perdono perché ancora dentro di noi c'è innata una cultura adamica dice mi hai fatto devi pagare dimentichiamo da cosa siamo stati condonati e graziati e la mancanza di perdono ci isola dalla comunione con Dio quindi la chiave dove sta Gesù disse se tuo fratello viene ti viene a chiedere perdono tu devi perdonare qualcuno dice no ma deve essere una conseguenza perdonare no se tuo fratello viene riconosce l'errore ti chiede se ci senti scusami ti chiedo perdono tu devi perdonarlo non devi discutere e dire sì però tu ricordati che in quel giorno a quell'ora alle ore 17 e 29 e c'erano 30 secondi tu in quell'epoca a quel momento perché c'era la sorella perché c'era il fratello perché è successo questo la tua parola quello che tu hai fatto mi hai ferita io non ti posso perdonare perché tu fai uno storico ma se tuo fratello viene ti chiede senti ti chiedo perdono per quell'azione che ho fatto Gesù disse perdona e Gesù ha insegnato che se noi non perdoniamo di cuore non di mente i propri fratelli noi ci atterriamo una colpa e non possiamo piacere a Dio amen ci siete fino qua quindi posso andare avanti chi rappresentano gli aguzzini ascolta che ti leggo questa lista sono demoni di amarezza risentimento vendetta delusione tristezza ritorsione odio che hanno il diritto di opprimerci e saremo liberati nel momento in cui noi rilasciamo perdono ma se noi riteniamo l'offesa e quindi non rilasciamo perdono ci sono demoni che continuamente gli aguzzini sono i demoni che continuamente ti parlano all'orecchio e ti sussurrano e ti fanno vedere ti proiettano l'azione e l'offesa ricevuta qualunque essa sia allora per questo per un cristiano non ci deve essere posto per la mancanza di perdono ma deve essere un'azione continuata camminare continuamente nel perdono perché la mancanza di perdono ci isola da Dio isola la comunione la relazione con Dio e permette a demoni di influenzare la nostra vita e a volte nelle chiese siamo piene di persone che hanno creduto in Cristo Gesù ma guidati da demoni perché per la mancanza di perdono perché a volte si entra nella chiesa e pensiamo che nella chiesa tutto sia perfetto che i fratelli già sono perfetti che non sbaglieranno mai che non sbaglierà mai nessuno che tutto sarà perfetto ci facciamo un'illusione viviamo nel mondo non quello reale ma quello virtuale e pensiamo che nella chiesa tutti i fratelli siamo perfetti uno solo è perfetto nella chiesa Cristo Gesù tutti gli altri falliamo continuamente e quindi per un cristiano il perdonare deve essere un'azione continuata fratello ha sbagliato perdonano se non viene a chiederti perdono bene la bibbia dice se tu stai per presentare la tua offerta non sono solo soldi presentare l'offerta significa mi sto mettendo vieni fratello Pierluigi mi sto mettendo a disposizione sto mettendo il mio corpo a disposizione per servire e quindi ha indossato un un indumento rappresentativo perché lo sta servendo e quindi si sta offrendo per servire Dio ma prima che si offre quindi durante il cammino dalla strada alla casa per arrivare in chiesa si ricorda che il fratello ha qualcosa contro di lui non che lui ha qualcosa contro il fratello ma lui si sta ricordando che ha sentito dire che il fratello ha qualcosa contro di lui cosa deve fare prima di mettersi l'indumento prima che indossa l'indumento la bibbia dice vai a chiarire col fratello lascia qua l'indumento la tua offerta vai prima a chiarire con tuo fratello dopo aver chiarito torna e indossa presenta l'offerta perché come possiamo dire di servire Dio e di offrire la nostra vita in sacrificio a Dio perché lo vogliamo rappresentare lo vogliamo onorare se realmente odiamo il proprio fratello abbiamo risentimenti contro il fratello stiamo svolgendo un servizio a Dio o stiamo svolgendo un servizio ad una struttura è diverso servire una struttura che servire Dio allora dobbiamo cambiare modo di pensare perché non è gradito se il fratello serve si mette il gilet per servire Dio il suo servizio grazie fratello meraviglioso hai fatto un buon servizio ma ha ricevuto la ricompensa da un uomo ma la nostra ricompensa ci viene da Dio perché chi è che desiderava la ricompensa degli uomini chi era che desideravano la ricompensa degli uomini gli scrive farisei volevano la ricompensa degli uomini si mettevano sugli angoli sugli angoli delle piazze e volevano essere riconosciuti ma Gesù insegnò fra di voi non sarà così ovvero Gesù stava insegnando fra di voi non sarà come gli scrive farisei che vogliono ricevere onore dagli uomini il vostro premio sarà nel cielo tra di voi dovete essere servi gli uni degli altri chiaro stiamo scendendo in profondità non vi preoccupate ancora siamo un po a due tre metri sott'acqua ancora dobbiamo andare dove c'è più pressione quindi per annullare il dolore che proviamo tante volte gastrite colon infiammato dolore al torace mal di pancia gonfiore alla pancia non potere dormire la notte insonnia per liberarci da tutto questo dobbiamo perdonare qualunque sia il torto e il peccato che hai subito devi perdonare non perché ti deve ma perdono quando una persona una condanna che deve fare degli anni di carcere o deve pagare una determinata multa può chiedere al capo dello stato la grazia che gli venga condonato quel debito è la grazia lo stato il capo dello stato lo fa per grazia e perdono perché la persona non possa scontare più quel debito non possa pagare più quel debito ma lo riceve una grazia riceve un dono così questo deve essere un linguaggio dei credenti donare completamente e rilasciare liberi coloro che sono oppressi soprattutto nella famiglia di dio a volte nella chiesa di dio nella famiglia di dio ci sono figli e figli astri gruppi e gruppetti che continuamente si sentono per spallare fratelli ascolta quando gesù incontrò paolo gli ha detto saulo 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 perché mi perseguiti ma saulo non stava perseguitando gesù saulo stava perseguitando la chiesa di cristo gesù ma si la chiesa rappresenta cristo e cristo viene rappresentato nella chiesa e quando noi parliamo male dei fratelli stiamo parlando male della chiesa di conseguenza stiamo parlando male di gesù per questo questo linguaggio e questa abitudine deve essere rimossa dalla nostra vita deve essere annullato il pensiero mi unisco con alcuni fratelli alcune sorelle per parlare male di altri fratelli per parlare male di altre sorelle il mio linguaggio deve essere il linguaggio di cristo di riconciliazione il mio linguaggio deve essere un linguaggio di perdono il mio linguaggio deve essere un linguaggio di grazia un linguaggio di amore un linguaggio il linguaggio che aveva cristo quando era sulla croce dicendo padre perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo non ci arrivano con la testa allora il linguaggio che noi dobbiamo avere è il perdono se vogliamo avere i cieli aperti su di noi il tempo qualcuno dice ma sai c'è un detto dice ma il tempo guarisce no 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 non è il tempo che guarisce è il sangue di cristo gesù che guarisce ci lava e ci purifica e ci guarisce salmo 23 versetto 3 la bibbia dice egli non è il tempo che guarisce l'anima ma la bibbia dice egli è colui che mi guarisce colui che mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia quindi guida la mia vita ma dopo che ha guarito la mia anima colossesi capitolo 3 versetto 16 19 la bibbia l'apostolo paolo scrive alla chiesa di colosse comanda una cosa non consiglia e dice così colossesi 13 a 9 comanda ai mariti di non inasprirsi contro la propria moglie non con le mogli degli altri la parola di dio dice mogli onorate tuo marito onora tuo marito la parola di dio parla ai genitori e dice genitori non provocate a dire i vostri figli e allora tante ferite cari le abbiamo ricevute nelle nostre case nelle nostre famiglie mariti che abbiamo trattato male le mogli mogli che hanno trattato male i mariti genitori che hanno trattato male i figli figli che hanno trattato male i genitori siamo una generazione malata e il sangue di cristo gesù è stato sparso sulla croce per la guarigione della sua chiesa di tutti coloro che hanno creduto in cristo gesù alla tua la possibilità di farti lavare o di stare ancora sporco sta a te la scelta sta a me la scelta gesù tutto quello che doveva fare lo ha fatto ti racconto una mia testimonianza personale circa quattro anni fa siamo in diretta siamo in diretta siamo in diretta circa quattro anni fa bo sto camminando con legalità nel senso che abbiamo pagato l'affitto c'ho le scarpe circa quattro anni fa mia figlia mi aveva chiesto di sposarla e un giorno stava adorando eravamo una domenica qua in chiesa stavamo adorando bello meraviglioso e mi trovavo quando erano le sedie un po curvate mi trovavo sulla prima sedia con le mani alzate ero alzato anch'io le mani alzate che stava adorando e ho visto una scena che io stavo sposando mia figlia ovviamente questa figlia l'ha avuta prima di conoscere cristo stavo sposando mia figlia e dietro mia figlia c'era sua mamma c'era suo nonno e non c'era nessun altro le sedie erano vuote poi vedevo che c'erano invece delle persone e io guardavo mi vedevo io che stavo sposando mia figlia stavo vedendo mia figlia il suo futuro marito stavo vedendo sua mamma stavo vedendo suo nonno e ho detto signore io dovrò predicare la tua parola a queste persone perché non è fare un rito religioso un matrimonio ma è predicare la parola di dio e ho detto signore io non voglio che la tua parola vada a vuoto quel giorno ma che la tua parola possa produrre buon frutto nei cuori delle persone che l'ascolteranno ma la bibbia dice gesù dice bada bene a te stesso e quindi io ho dovuto badare bene a me stesso ho detto siccome c'era l'evidenziatore sulla mamma di mia figlia e su suo nonno erano evidenziati in mezzo a tutte le altre persone ho detto ovvero i miei occhi erano puntati più su di loro cosa è accaduto che ho detto signore io ho ricevuto tante ferite e il mio cuore pensavo che dio mi avesse guarito ma la ferita c'era ancora perché non avevo perdonato di cuore e così ho detto signore io non voglio che la tua parola rilasciata in quel giorno possa andare a vuoto perché non si ripeterà rincontrare le stesse persone nello stesso luogo essere tutti insieme e quindi non voglio perdere l'opportunità che la tua parola possa scendere di livello io posso far salire il livello della tua parola ma io la posso fare scendere come con la mia attitudine e così ho detto signore io ho ricevuto tante ferite e sicuramente ho ricevuto il 99 delle ferite le ho ricevute da queste persone ma anche quell'un per cento di ferite che io ho dato forse è stato quell'uno per cento è stata la causa scatenante dove mi hanno ferito per il 99 per cento allora ho detto signore io non mi aspetto che queste persone mi possano chiedere perdono mi possano chiedere scusa ma io prima di celebrare il matrimonio io chiamerò in particolar modo il nonno perché avevamo avuto delle difficoltà e guerre insomma tante cose prima che ci separassimo e così è accaduto che ho detto signore io andrò da quest'uomo andrò a chiedere perdono per tutto il male che io gli ho fatto io non celebrerò il matrimonio se non prima gli abbia chiesto perdono a questa persona bene siccome non c'è stato il tempo l'ho fatto subito dopo la celebrazione e quindi subito dopo la celebrazione me lo sono chiamato insieme a suo figlio io ho detto a suo figlio per favore puoi chiamare tuo padre che devo dirgli una cosa in tua presenza e quando me lo sono chiamato io ho detto le chiedo perdono per tutto il male che io ho fatto per questo per questo per questo e lui mi diceva no vabbè ma sono cose passate no io l'ho ripetuto per la seconda volta e lui diceva ma ormai sono cose vecchie ho detto no per lei pensa che sono cose vecchie ma sono ancora cose vive allora io l'ho detto per la terza volta l'ho guardato negli occhi io ho detto si fermi io l'ho detto per la terza volta lui ha ricevuto il perdono lui non mi ha chiesto perdono ma col suo sguardo ha rilasciato perdono anche nella mia vita ci siamo abbracciati abbiamo passato un buon tempo bene tutte le persone che hanno partecipato al matrimonio e poi al pranzo mi è passato tutto il tempo evangelizzare le persone ovvero la parola di Dio è arrivata al cuore di queste persone perché io ho dovuto fare una scelta rilasciare perdono ti dico una cosa io ho visto crescere l'unzione di Dio nella mia vita a motivo di questo e abbiamo avuto ci sono stati anni che non si può tornare indietro ma ti dico una cosa che Dio che ricompensa ci sono delle cose terrene dove tu non puoi ritornare indietro tu non puoi ritornare agli anni di goderti tua figlia ai 4 5 6 7 anni ma Dio sa come guarire i cuori sa come lavare lavare e purificare i cuori dei suoi figli allora dove sta il problema vuoi ristare sempre nella stessa condizione o vuoi cambiare tanti problemi dove nascono rapporti tra marito e moglie litigi tra marito e moglie i bambini ascoltano si dice alla moglie tuo figlio quando un padre dice alla moglie tuo figlio sta rigettando sembrano cose sottili ma sono cose importanti perché il figlio che ascolta questo dice ok non sono figlio di mio papà ma sono solo figlio di mia mamma perché non c'è un'appartenenza quando i figli si comportano male tu somigli a tua madre stai dicendo realmente io ti rigetto come figlia o come figlio perché tu non somigli a me ma semigli a tua madre e i figli agganciano le liti tante volte che ci sono stati con i genitori per questo la bibbia dice o le correzioni tante volte con i con i figli che si fanno con i figli i genitori dobbiamo essere educati come correggere i figli e la bibbia dice non provocarli ad ira come puoi provocare tuo figlio ad ira che gli dici sempre se è una cosa inutile non ce la fai tua cugina è meglio di te il fratello più grande è meglio di te stai provocando i tuoi figli ad ira dire basta ma perché gli altri sono sempre meglio di me ma correggerlo significa che come padre te lo devi mettere accanto come madre te lo devi mettere accanto e gli deve insegnare il bene e il male le cose giuste e le cose scorrette ma lo devi fare con la parola di Dio in mano non lo devi fare con la violenza con l'imposizione perché Gesù non ci corregge con l'imposizione Gesù ci corregge con l'amore Gesù non ci corregge puntandoci il dito Gesù ci corregge con l'amore e molte ferite noi ce li portiamo dalle nostre case molte ferite noi le abbiamo ricevute nelle nostre famiglie se vi ricordate molte molti padri sono stati feriti perché rigettati dai figli io non ti conosco come mio padre ecco quello è mio padre ecco quella è mia madre tu non sei mia madre non sei una e i figli tante volte abbiamo rigettato i genitori i padri le madri tante volte abbiamo rigettato i nostri figli sono delle ferite forse per cose che abbiamo fatto per mancanza di conoscenza per ferite che noi abbiamo avuto per momenti di crisi momenti di stanchezza abbiamo ricevuto stanchezza abbiamo dato abbiamo creato ferite abbiamo creato delusioni un matrimonio che si divide o finalmente ci separiamo così alla mia liberazione i tuoi figli cosa fanno che insegnamento stai dando ai tuoi figli alla prossima generazione cosa gli sta insegnando la legalità del divorzio stai insegnando questo stai preparando i tuoi figli a divorziarsi anche loro oppure puoi dare come genitore la soluzione lotto o lotteamo insieme cerchiamo aiuto cerchiamo l'aiuto di dio cerchiamo il consiglio dei figli di dio dei ministri di dio cerchiamo l'aiuto perché possiamo essere accordati e possiamo abbassare il nostro orgoglio e creare una generazione santa perché le ferite non sono solo per te marito moglie padre e madre ma le ferite sono anche per i bambini e un bambino ferito si riprodurrà nella vita dei suoi figli e questi figli che non verranno guariti riprodurranno figli guariti figli feriti abbiamo bisogno cari di metterci davanti a dio di perdonare le persone che ci hanno fatto del male che ci hanno ferite i nostri genitori i nostri padri le nostre madri i nostri figli i nostri fratelli le nostre sorelle dobbiamo metterci davanti a dio per essere liberi per poterlo servire perché noi non possiamo servire a dio se abbiamo ancora delle zavorre che ci portiamo dietro rallenti il processo nella tua vita quando tu te ne puoi liberare subito perdonando le persone che ti hanno fatto del male perdonare tuo padre perdonare tua madre perdonare se sei un genitore anche i tuoi figli perché forse ti hanno lasciato se ne sono abbandonate non ti hanno ascoltato si sono comportati in modo disubbidienti tutti quanti noi dobbiamo subire un processo perché fintanto che non perdoniamo i cieli su di noi sono chiusi le catarratte del cielo sono chiuse sono bloccate non sono aperte marco capitolo 11 versetto 25 la bibbia dice e quando vi mettete a pregare se avete qualcosa contro qualcuno quindi sta parlando il fratello la sorella la cugina la moglie la zia il nipote chiunque dice perdonate affinché anche il padre vostro che ne cieli quindi sta parlando già Gesù sta parlando ai discepoli che discepoli avevano una relazione col padre gli sta dicendo così anche il padre vostro che nei cieli potrà perdonare anche voi ma è condizionato il perdono da dio verso di noi è condizionato dal nostro perdono che rilasciamo se io rilascio perdono riceve il perdono di dio se io non rilascio perdono dio non può rilasciare perdono per questo Gesù disse batate bene a voi stessi e poi dice ancora ma se voi non perdonate neanche il padre vostro che ne cieli perdonerà i vostri peccati anche se tante volte abbiamo ragione da vendere per quello che ci hanno fatto anche agli occhi di dio abbiamo un torto da vendere se non perdoniamo cosa sto dicendo se il fratello mi fa del male se la sorella mi fa del male se mia moglie mi fa del male e mia moglie la sorella il fratello il figlio ha torto mi ha fatto tanto male torto un grande torto e io ho ragione da vendere davanti agli occhi di dio se io non perdono ho tanto torto da vendere come posso avere tanta ragione da vendere tu non sai cosa io ho passato tu non sai quello che mi ha fatto questo fratello questa sorella mia moglie mio marito io non lo posso sapere ma dio lo possa lo sa noi non possiamo sapere ma dio lo sa ma dio ci chiede comunque vuoi i cieli aperti vuoi essere benedetto vuoi crescere nella fede vuoi la benedizione di dio dio ci sta dicendo perdona matteo capitolo 6 versetto 14 dice perché se voi perdonati agli uomini le loro offese il padre vostro celeste perdonerà anche a voi ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese neppure il padre vostro perdonerà le vostre possibili definizioni di perdono la prima è la chiave che apre la cella al dolore significa sciola gastrite colonne infiammato pancia gonfia mamma mia ho questo quello questa è una prigione perché devi stare attento a quello che mangi devi prendere la pillola non ti deve gonfiare qua lo stomaco perché se mangi ti gonfia la pancia e quindi sei una prigione per evitare questa prigione devi perdonare medici dicono che queste malattie vengono intestinali vengono dalla mancanza di perdono dall'amarezza non per niente Gesù la parola di dio dice non spunti in voi nessuna radice di amarezza che vi dia molestia un'altra è scrivere pagato definizione di perdono è scrivere pagato su una cambiala uno che ti deve tot ti dice ok pagato ormai me l'hai pagato basta condono la terza è smettere di fare il giudice ecco perché perché deve pagarlo ecco il signore glielo sta facendo pagare il signore non fa pagare mai niente a nessuno il signore non punta mai il dito a nessuno smettiamo di fare il giudice di quel fatto accaduto e concludiamo con questo meraviglioso prezioso quello che Gesù ha compiuto sulla croce c'è stato ma qualcuno che per caso è stato qualche volta in croce c'è stato mai nessuno qualcuno che ha preso 39 frustrate qualcuno c'è qualcuno ha avuto 39 battiture nella schiena nel corpo nessuno qualcuno per caso qualche volta gli hanno piantato i chiodi qua nelle mani che poi non è qua che glielo hanno piantati è sbagliato gli hanno piantati qua perché se glieli piantavano qua si strappava e Gesù cadeva gli erano piantati qua qualcuno ha avuto i chiodi piantati qua forse qualcuno si stava tagliando per suicidarsi insomma ma i chiodi piantati qua qualcuno l'ha avuto quando Gesù era sulla croce la Bibbia dice Luca capitolo 22 capitolo 23 versetto 23 e quando giunsero al luogo del detto del teschio lo crocifissero lui e i malfattori l'uno a destra e l'altro a sinistra e Gesù diceva ai malfattori padre perdona loro perché non sanno quello che fanno poi spartite le sue vesti lo tirarono a sorta cosa faceva Gesù quando era sulla croce qual era la preghiera che fece Gesù padre dimostra chi sei tu difendimi padre guarda quello che mi stanno facendo diceva questo Gesù quando era sulla croce lo stava dicendo padre perdona loro perché non possono comprendere quello che stanno facendo non comprendono il danno che stanno facendo a loro stessi e Gesù mentre era sulla croce stava pregando per coloro che stavano facendo del male cosa disse cosa insegnò una volta Gesù prega per i tuoi amici o per i nemici cosa insegnò Gesù di fare del bene ai tuoi amici ai tuoi nemici cosa dobbiamo fare noi come credenti perché dobbiamo pregare per i nostri amici o per coloro che ci fanno del male per coloro che ci fanno del male per coloro che ci hanno fatto del male noi dobbiamo pregare per loro e Gesù diceva padre perdona loro perché non sanno quello che fanno poi spartite le sue vesti forse ti hanno rubato soldi forse ti hanno rubato casa ti hanno rubato proprietà la macchina il lavoro sei stato privato di cose che non ti possono mai più tornare ma la bibbia dice a Gesù dice che gli spartirono nelle sue vesti e furono tirate a sorte a Giuseppe cosa fecero suo padre gli aveva fatto un bel vestito di tanti colori e i suoi fratelli l'hanno preso l'hanno macchiato di sangue l'hanno sporcato tutto Giuseppe quando incontrò i fratelli cosa fece mi ha detto ecco tu sei quello che mi ha tirato il vestito che mi ha strappato il vestito più bello quello che papà aveva fatto quello che papà mi aveva regalato tu lo dovrai pagare adesso tu dovrai pagare per questo Giuseppe fece questo o quando vide i suoi fratelli che andarono in Egitto se ne andò nella stanza e iniziò a piangere per i suoi fratelli ora questo ci dà un insegnamento hai mai pianto per le persone che ti hanno fatto del male ti sei mai inginocchiato a pregare il padre a presentarli davanti al padre alle persone proprio che ti hanno fatto del male che ti hanno rubato le vesti quello che tu avevi quello che tu possedevi hai mai pianto per coloro che ti hanno tradito ti hanno rinnegato hanno parlato male di te se Gesù quando era sulla croce ha potuto pregare ha detto padre perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo non comprendono il danno che stanno facendo a loro stessi e Gesù ha dovuto pregare per questo Giuseppe quando vide i suoi fratelli si mise a piangere non le ha ripagati con la stessa moneta e la parola di Dio ci dà insegnamenti che se vogliamo vedere i cieli aperti Giuseppe i cieli sopra la vita di Giuseppe furono aperti perché lui stava attenta al suo cuore non c'era giudizio contro i suoi fratelli che lo avevano venduto non c'era nella sua mente nel suo cuore condanna verso i fratelli che lo avevano tradito lo avevano venduto come schiavo gli avevano rubato il vestito e la parola di Dio ci dà insegnamento che dentro di noi non ci deve essere rivendicazione ma che ci deve essere perdono e il perdono libera le persone ma libera anche la nostra vita e smetti di pensare sempre a quell'azione a quell'episodio a quella persona e smetti di pensare di parlare se non puoi parlare con una sorella perché la sorella arrivando a un certo punto dice basta perdona tu vai cercando un'altra persona che ti appoggia per parlare male di quella situazione e quando la sorella ti alza il muro te ne vai cercando un'altra cosa perché ti appoggia e se non trovi è così continua la storia e a volte diciamo ecco la sorella non comprende non è sottomessa non è una cristiana non capisce ecco la sorella non è una cristiana non capisce e guarda quella il pastore non è così il problema non è nella sorella nel fratello nel pastore nel guardiano il problema della persona la persona che realmente non si mette davanti a dio e permette a dio di ministrare permette al padre di ministrare nel cuore e rivelargli la vera condizione della stessa persona continuerà a vivere a un'etichetta di cristiano ma non abbiamo tante volte un comportamento da cristiano i cristiani dobbiamo vivere trattando i due argomenti di questa mattina vivere continuamente nell'intimità e quando realmente abbiamo intimità col padre ci viene facile perdonare non deve non ci devono essere insegnamenti non ci deve essere qualcuno che ti stimola e ti incoraggia a perdonare perché se hai una giusta relazione col padre è una giusta intimità il padre stesso ti insegna a perdonare e dio sta cercando una chiesa che cammina nell'intimità con lui è una chiesa che perdona dio sta cercando una chiesa che cammina in intimità solo non solo marito e moglie ci preghiamo marito e moglie no noi ogni mattina con mia moglie preghiamo insieme io poi mi faccio il mio lavoro la mia intimità mia moglie ha la sua intimità a casa non è solo la preghiera di accordo tra marito e moglie è esorto marito e moglie a pregare insieme perché uno dei motivi perché sopra la coppia la famiglia i cieli sono chiusi e la mancanza di intimità io prego per i fatti miei tu preghi per i fatti miei i fatti tuoi questo chiude anche i cieli ma quando marito e moglie pregano insieme il marito prega la moglie ascolta la moglie prega il marito ascolta sta conoscendo il suo cuore quando il marito prega la moglie sta conoscendo il suo cuore e si sta legando il cuore a motivo della preghiera quando il cuore è legato non ci può essere separazione quando hai hai finito di pregare tra marito e moglie tu devi avere il tuo devozionale il tuo devozionale la tua intimità con di dove puoi aprire più apertamente il cuore delle cose più profonde le paure che tante volte magari per proteggere tua moglie non li dici non li menzioni in preghiera perché vuoi proteggerla vuoi rassicurarla ma quando te ne vai davanti a dia dire signore per questa cosa sono preoccupato padre ti prego ho questo dolore se tua moglie in un determinato giorno ti ha ferito tu te ne vai davanti alla presenza del padre dice padre avevo pregato con mia moglie ma mia moglie ancora non è arrivata questa a comprendere che questa parola a me mi fa e se hai un'intimità col padre il padre guarisce l'anima tua e se la tua anima è guarita tu non ti vai a scontrare con tua moglie nella moglie si scontra col marito perché laddove il conige non può arrivare è lo spirito santo che arriva ma se manca questo cari fratelli noi zoppicheremo sempre nel cammino cristiano noi dobbiamo riportare ordine nella nostra vita noi dobbiamo riportare ordine nei nostri matrimoni nella nostra casa nella chiesa dio vuole figli ordinati dio non vuole figli disordinati dio vuole figli benedetti e dio vuole benedire i suoi figli la bibbia dice che voi sarete distinti da tutti gli altri popoli che sono sulla terra il desiderio del cuore del padre che tu e dio possiamo fare la distinzione che come popolo di dio come figli possiamo essere distinti da tutti gli altri popoli che sono sulla terra che le persone possano guardare noi come persona come matrimonio come famiglia come chiesa come luce che le persone possono dire ma come mai questi sono benedetti ma come mai queste persone prosperano ma come mai questi matrimoni vanno avanti ma come mai questa coppia affronta difficoltà ma sono sempre insieme sono gioiosi perché i cieli sono aperti è un cristiano che cammina in ordine con dio è una luce posta sul monte che fa luce a tutti quanti questo è quello che dio desidera noi dobbiamo camminare costantemente con i cieli aperti su di noi dobbiamo avere la consapevolezza che i cieli su di noi sono aperti e che non c'è niente che sta separando la nostra vita io questa mattina voglio fare un appello per tutti coloro che nella famiglia famiglia di origine hanno ricevuto ferita esci dal tuo posto io voglio pregare per te non voglio fare una filastrocca di preghiera ma voglio pregare per te sento che ci sono grazie 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 grazie